Rita Ora, sbalordisce con il suo nude look al concerto delle girls allowed. Benvenuti su Daily Gossip Scoop. Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Un piccolo gesto, ma per noi fondamentale. Grazie. Sin dagli esordi, Rita Ora ha abituato i suoi fan a look seducenti e coraggiosi. E non ha deluso nemmeno in occasione del concetto delle girls allowed a Londra, sfoggiando un nude look che ha lasciato ben poco all'immaginazione. La pop star è arrivata allo Two Shepherds Bush Empire con un lungo abito dorato luccicante, realizzato in tessuto trasparente che ha messo in evidenza le sue curve generose. A completare l'outfit, un paio di stivali in pelle nera. Il beauty look di Rita, tuttavia, è stato di tutt'altro genere. La cantante britannica ha scelto un makeup nei toni del rosa, con leggero blush e lip gloss delicato. Anche l'hairstyle è stato all'insegna della semplicità, con i lunghi capelli biondi lasciati morbidi sulle spalle. Non sono mancati gli accessori di tendenza. Rita è stata immortalata all'ingresso del locale con una tote bag in pelle nera e una giacca con frange color cammello. E, come gran parte delle sue colleghe, non ha potuto rinunciare ai maxi occhiali da sole, scegliendo un paio con vetri colorati e montatura rossa. Ad accompagnare Rita all'evento londinese c'era anche suo marito, il regista neozelandese Taika Waititi. La coppia, che si è sposata in gran segreto nell'estate del 2022, preferisce tenere lontano dai riflettori la propria storia d'amore. Anche l'album di nozze è stato pubblicato con estremo ritardo sui social, con Rita che ha spiegato, non è stato a Londra o in Francia come molti credevano, ma a Los Angeles con un piccolo gruppo di amici. È stato quasi un giorno come tutti gli altri. Ci siamo vestiti bene e ci siamo andati a sposare. Rita ora ha conosciuto la popolarità nel 2012 con il suo album di debutto Ora, e ha firmato brani per la colonna sonora della saga 50 sfumature di grigio, in cui ha recitato anche nei panni di Mia. Oltre alla carriera musicale, l'artista è anche attrice e presentatrice. Fino al 2023, è stata giudice della versione australiana di The Voice Australia ed è attualmente giudice nella versione britannica e statunitense dello show Il Cantante Mascherato. Gli ultimi impegni della ora l'hanno vista protagonista sul piccolo schermo, e i suoi fan possono aspettarsi di vederla ancora spesso in tv. Anche nei prossimi show, non mancheranno gli abiti all'insegna della sensualità, proprio come quello sfoggiato al concerto londinese. Grazie per la visione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao! Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.